Travolto con l'auto per uno sguardo di troppa una ragazza, è accaduto a Paternò nella serata del 29 gennaio. Vennero giovanino Nicolosi di anni 26 a bordo di una autovettura al travolto volontariamente un giovane di 21 anni nella piazzetta delle fontane di Paternò. L'insano gesto è scaturito da una banale lite avvenuta qualche ora prima nel parcheggio di un distributore di benzina e proseguita poi su Facebook. Lite generata dal fatto che le 21enne avrebbe guardato la fidanzata di Nicolosi. Dopo la lite Nicolosi ha contattato i propri familiari, il padre, il fratello e il cognato. I quattro si recavano a bordo di due auto diverse presso piazza delle fontane, dove consumavano la loro vendetta. Intorno alle 22.30 il giovane è stato travolto intenzionalmente da un'autovettura Alfa Romeo 147 condotta da Vennero giovanino Nicolosi, con a bordo la sua ragazza, fatta sedere sul sedile posteriore, pochi attimi prima dell'arrivo in piazza. Negli stessi momenti è giunta una Fiat Idea con a bordo i familiari dell'aggressore, i quali, scesi dal veicolo, hanno aggredito fisicamente gli amici del ragazzo, tentando di colpire nuovamente quest'ultimo, riverso a terra privo di sensi. I tre risaliti a bordo della Fiat Idea si sono dati alla fuga, mentre Nicolosi Giovanni Vennero, sceso dall'autovettura per aiutare i familiari, ha raggiunto nuovamente l'Alfa 147 per darsi anche due alla fuga. Nei giorni seguenti, gli autori del delitto, nel tentativo di depistare le indagini, hanno venduto a un terzo soggetto, l'Alfa Romeo 147, utilizzata per il tentato omicidio. Il veicolo tuttavia è stato intercettato dai calvinieri e sottoposto a sequestro.